mentre cercavamo di costruire leggere leggere e ancora era un sogno abbiamo cercato qualcuno che potesse aiutarsi a trasformarlo in qualcosa di reale e di sostenibile abbiamo così incontrato fare lavoro che ci ha aiutato nell'elaborazione del business plan nel scegliere alcune partner con cui collaborare per appunto costruire il nostro sogno e anche nell'avere un finanziamento per partire insomma per l'acquisto dei primi libri dei primi giocattoli